Si terrà domani alle ore 17 all'Anfiteatro sul Mare a Giulianova un incontro con il fumettista toscano Michele Rec per tutti Zero Calcare divenuto celebre negli ultimi anni per la serie animata su Netflix Strappare lungo i bordi vincendo anche il premio Sergio Bonelli. L'evento organizzato dai ragazzi del Campetto Occupato avrà un fine ovvero parlare di spazi sociali e repressione mentre la sera proprio Zero Calcare farà disegni per una raccolta fondi. Si mercoledì qui a Giulianova avremo il piacere e onore di ricevere Michele Zero Calcare per un'iniziativa che avrà due momenti essenzialmente un momento che è qui in piazza alle 17 qui all'Anfiteatro del Mare che ci sarà un momento pubblico, un dibattito sulle lotte che si portano avanti sulla repressione e sull'importanza degli spazi sociali come il Campetto Occupato che ricordiamo è sempre sotto minaccia di sgombero e un secondo momento proprio giù al Campetto Occupato in cui Michele farà dei disegni che saranno bene, fitto bello, una raccolta fondi per chi porta avanti le lotte e passa i guai e ci sarà un altro amico Osvaldo Bianchi che accompagnerà la serata con la sua simpatia e la sua musica. Ecco Zero Calcare che da anni accompagna possiamo dire questo tipo di lotte. Zero Calcare è un amico, è un compagno nostro e infatti lo ringraziamo di cuore perché ha scelto di stare con noi e ricordiamo che lui tutti gli impegni che ha non va ovunque, se lo fa qui perché sostiene quelle che sono le nostre lotte e ricordiamo che questa iniziativa con tutte quelle che facciamo sono auto-organizzate e aggiungono anche un valore al territorio pensiamo. Grazie.